Ciao, sono Nadia Scherani, sono la coreografa di Big Fish, il musical che sarà in scena al Teatro Duse di Bologna il 7 e l'8 giugno. Lavorare con Saverio Marconi significa continuare costantemente il suo racconto e colorare i suoi quadri, mi viene da dire, perché lui è un visionario, ha sempre molto chiaro quello che vuole raccontare, l'immagine da sfruttare. L'ispirazione a me arriva dalla musica, dal materiale umano che ho e soprattutto dal racconto. Ogni coreografia rappresenta un momento di vita e di storia raccontata a Will, il figlio di Edward. Il primo numero che ho costruito con i ragazzi è un Alabama Stomp, cioè una sorta di sequenza stomp che viene insegnata da Edward a dei pescatori. Spiega a questi pescatori come far rivivere i pesci e tramite un rituale, una danza, questi pescatori iniziano a pescare e poi vabbè non posso svelare troppo perché lo vedrete. Un altro numero che mi sono divertita molto a costruire è l'inizio del secondo atto in cui ci sono le ragazze vestite tipicamente americane da parata americana, infatti mi sono ispirata alle Rockettes che sono un po' un simbolo, un'icona americana da questo punto di vista. Mi sono divertita a giocare con lo stile, con delle immagini un po' militari diciamo, un po' patriottiche e ho costruito una serie di disegni a funzione di alcune scene registiche che vedrete. Questo musical ha una grande magia di fondo che Saverio ha abilmente messo in scena dove si vive una favola, una favola che poi è vera e quindi fa tornare bimbi, fa tornare a sognare.